Vinciamo 2-0 contro l'Arsenal e questa per noi è la terza vittoria consecutiva di questa preseason. Ragazzi, vittoria fondamentale, fondamentale. Non mi venite a dire che era solo un amichevole, perché neanche per l'Arsenal era solo un amichevole, neanche per Arteta era solo un amichevole, perché l'Arsenal ieri sera è scesa in campo con tutti gli undici titolari. Addirittura fino al settantesimo c'erano solo titolari. Dopo il settantesimo sono entrati giocatori come Gabriel Jesus, come Jorginho, gente comunque sia che il campo lo vede all'Arsenal e lo vede parecchio. Lo United invece nel primo tempo è sceso con un po' di titolari, un po' di panchinari, giocatori fuori posizione, tipo Sancio che faceva il falso 9, per favore levatelo da lì, ne parleremo. E nel secondo tempo siamo scesi in campo addirittura con più titolari, molti più titolari. Non titolari, panchinari. Williams, Lindelof, Maguire, Dalot e potrei continuare. L'Arsenal invece ha continuato a spingere, ha continuato a giocare per vincere e non c'è riuscita. Non ha vinto nemmeno ai calci di rigore. E tutto ciò è veramente divertente, perché i tifosi dell'Arsenal su Twitter si divertivano a dire adesso li uccidiamo, adesso vinciamo noi, questa non è una partita amichevole. Adesso che hanno perso è una partita amichevole. Non è più una partita dove bisogna vincere perché affronti lo United. È semplice fare così. Lo United ieri sera ha giocato in maniera perfetta. Lo United sta crescendo. Lo United sta crescendo. Soprattutto nella costruzione dal basso. E questa cosa la vedremo molto con Onana. Perché ieri Eton, partiamo da Eton, giocatore preso per il culo da tutti, ma Eton con i piedi è meglio di De Gea. Eton ieri ha fatto una partita clamorosa in gestione. Clamorosa. E i giocatori si stanno adattando a quei passaggi che faceva Onana. A quei passaggi che fa Onana e che faceva Onana l'Inter. Perché ieri Eton ha giocato alla Onana. E vi dico, ovvio non è Onana perché uno l'ha pagato 50 milioni, quell'altro sta là gratis e va bene. Lo sappiamo tutti. Ma è veramente un ottimo rincazio. Un giocatore che oggi, che ieri sera, allo United gli ha permesso di poter giocare come se ci fosse Onana in campo. Perché Tenaghe sta provando questo. Tenaghe sta provando la transazione e l'ha detto più e più volte. Lui vuole far diventare lo United la squadra più brava nella transazione, la squadra più brava proprio nel costruire e ripartire. E ieri sera io ho visto questo. Tante triangolazioni sullo stretto anche di ragazzini giovanissimi. Ripartenze veloci, rapide, anche sugli errori degli avversari. Tanta pressione. Si sta iniziando a vedere il calcio di Tenaghe. E queste pre-season, ragazzi, servono. Servono. Non mi fate il discorso. Jarno, pare che stia parlando in una partita ufficiale. Le partite amichevoli sono importanti per l'allenatore, per i giocatori, ma anche per i tifosi stessi. Per valutare l'andamento del club. Perché l'anno scorso, quando noi abbiamo battuto il Liverpool in amichevole, io cosa vi ho detto? Ragazzi, c'è qualcosa di diverso. Perché sì, tu hai vinto un amichevole con Liverpool, ma come l'hai vinta? A livello del gioco? L'hai schiacciati? O che era un amichevole d'agosto? Luglio, quello che era. Ma ragà, mancano 20 giorni, eh? Qui, in questo momento, mancano 20 giorni, più o meno, all'inizio della Premier League. Non stiamo parlando di tre mesi. 20 giorni. E allo United manca ancora un altro centrocampista, ma soprattutto manca un numero 9. Tornando alla partita, ragazzi, la persona, il giocatore che mi è piaciuto di più di tutti è Kobe Maino. Anche ieri sera, partita monumentale di quel ragazzo. Ci uscirà un video, un'analisi a riguardo, perché partita incredibile, incredibile. C'è poco da dire. C'è veramente poco da dire. Questo ragazzo è pronto per il grande calcio, per il grande passo. Questo ragazzo è pronto. È veramente forte. Fisicamente, tecnicamente, ha un'intelligenza incredibile. Ieri addirittura ha fatto un assist e si è mangiato rice, mi sembra, o aversi in velocità. Se l'è fumato. Impressionante la costanza anche del lavoro. Migliora di giorno in giorno. Questo è un ragazzo che, io lo dico ormai da mesi, su YouTube lo dico da quando è che ho iniziato, ma lo dicevo in testa anche quando non stavo sui social, perché questo ragazzo ha una potenzialità che è impressionante e sotto Casemiro può solo che cresce. Migliori in campo, quindi Kobe Maino, peggiori in campo da parte lo United. Ragazzi, a me nel complesso non mi è piaciuto tanto né come è entrato in campo Casemiro né come è entrato in campo Eriksen. Hanno provato troppo i lanci lunghi e infatti Tenag in panchina urlava parecchio perché lo United adesso vuole diventare quella squadra che fa la transazione in maniera veloce e rapida ma non palla lunga, costruendo qualcosa di veramente bello e interessante e quindi questa cosa via palla e lanciallungo bisogna levassela o perlomeno non bisogna farla sempre. Dopo la cosa importante è il risultato, non è che devi giocare sempre bene, lo sappiamo, il discorso è sempre il solito. A livello generale quindi nel primo tempo abbiamo costruito ma la cosa che mi è piaciuta tanto è che noi abbiamo come vi posso dire abbiamo concluso le azioni abbiamo segnato dagli errori loro. Il primo vabbè Bruno che tira di sinistro Naseccia Ramsdell che si dimostra un portiere che sì è forte ma fino a un certo punto ma il secondo gol il secondo gol è fondamentale perché Gabriel lancio lungo il difensore Larsida se non erro Gabriel liscia il pallone Sancho correndo gli passa dietro e gli prende sta palla inizia a correre ma corre ma io non ho visto mai io vi giuro che in due anni di Manchester non ho mai visto correre Giado Sancho come ha corso ieri quando è andato al gol ha fatto uno scatto Gabriel ragazzi non è lento cioè non è un difensore ma c'era anche non so se era Saliba o Timber vicino non ricordo adesso ma comunque si ha fatto uno scatto palla al piede è imprendibile fisicamente Sancho io lo vedo molto più preparato non per il gol perché i gol contano poco in questo momento conta la prestazione fisica e tattica mi è piaciuto veramente tanto cioè fisicamente si mi ha messo molto meglio sembra molto più come vi posso dire più a livello l'anno scorso tipo anche due anni fa a livello fisico sembrava un po' lasciato andà no quest'anno sembra più concentrato a livello fisico vediamo eh speriamo perché lui può essere un'arma in più lo sapete io non ci credo più non gli do più speranze però nel calcio non si può sapere è ancora giovane tutto può succedere poi c'è poco da dire ragazzi a livello generale lo United ha dominato ci sono stati tanti falli Lissandro il solito giocatore incredibile una preparazione fuori fuori proprio non riesco a capire come possa un giocatore che è stato infortunato in maniera molto grave l'anno scorso si è infortunato in maniera molto grave a ritornare a livello fisico in questa maniera cioè sembra che non sia mai successo nulla comunque a livello generale mi dispiace per Dello che ha ricevuto un infortunio mi sa molto grave molto molto grave speriamo che non sia nulla di lungo cioè che si possa riprendere subito sappiamo che questi sono botte è inutile vederlo con le stampelle con il gesso perché sono situazioni ragazzi che è capace dopo due settimane poi ritorna a giocare per esempio no cioè Eriksen sembrava che si fosse rotto tutto invece poi vede si è rotto per due mesi tre mesi è così cioè anche Lissandro quando si è girato col Siviglia sembrava si fosse rotto il tendine da kill oddio nove mesi e stop invece erano due mesi vediamo un attimo ma io credo che Dello per come stava giocando questa preseason finiva tra i prestiti finiva tra i prestiti perché stava giocando veramente tanto male e io non dico fortuna però Pellestri per me merita più o meno taggio anche in questa preseason ieri non so se se di allora non si rompeva se Pellestri giocava non so sicuro non so veramente sicuro non capisco perché Facundo si è messo così a proprio lasciato in disparte non capisco perché a me mi piace veramente tanto è uno di quelli che mi piace di più non capisco perché fatto sta che questa non è ripeto nuovamente una semplice amichevole serviva a guardarla per capire tante cose e io ne ho capite veramente tante questa squadra sta cambiando di nuovo Tenaga sta cercando di cambiare ulteriormente la pelle di questa squadra sta cercando di renderla il più impossibile da battere e ciò per me lo devi fare passando la difesa a tre ma questo è un discorso che faremo poi e niente ragazzi io vi saluto vi ringrazio per la visione di questo video ma soprattutto vi ricordo che domani uscirà la live reaction è live reaction interessante perché ho risultato come un pazzo al secondo gol e io fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate cioè per voi il calcio estivo è solo amichevoli oppure vanno guardati e analizzati i match come faccio io e come fanno tante altre persone fatemelo sapere e soprattutto questo United diverso perché è diverso vi sta piacendo oppure preferite quello dell'anno scorso un po' più chiuso un po' più tendo di meno a rischiare la giocata perché lo United quest'anno dalle amichevoli estive sta rischiando molto di più la giocata cioè sta cercando sempre i costrui dal basso in continuazione cosa che Conteghe all'anno scorso non potevi fare quindi buttavi sul pallone fatemi sapere se vi piace più a me mette più paura però è anche più bello da vedere parliamoci chiaro io vi saluto e vi ringrazio per la visione di questo post partita alla prossima a giocata